Pietro chiedo scusa ai ragazzi con l'intervista devo rientrare via ah ha ragione scusami è che Pietro ho una sola chance o la rifacciamo con Whatsapp come fosse wiki allora Pietro Parente Pugliese paese? Barletta 67 mi aiuti? 71 71 siamo coetane primo tesseramento quante squadre in carriera? non mi ricordo girate tante primo tesseramento? professionista ha provato in C1 17 anni poi a Bari in Serie A18 avanti? e poi non mi ricordo oppure il punto più alto Pietro dove è stato? dove c'è stato il miglior parente al di là dei risultati o del numero di gol ma io mi sono stato bene dappertutto mi sono fatto amare dappertutto il top la stagione migliore? a livello di gol a Dancona 15 in A? no in B? in B Pietro Parente alla destra vecchi alla destra grazie scusa